Ciao! Eccomi qui con i video che molti di voi stavano aspettando ovvero l'estrazione del giveaway di aprile avete partecipato in tantissime persone soprattutto ragazze perché appunto erano tutti problemi di make up quindi prima di passare alla vincitrice vi dico un paio di cosine allora innanzitutto grazie mille per la partecipazione che siete state veramente in tantissime e non me l'aspettavo e seconda cosa si ho cambiato i colori dei capelli sapete che ogni tanto ho bisogno di cambiare quindi può essere che in questo momento sono verde già domani sarò blu quindi se al momento sono verde tipo pino, abete, non so qualcosa del genere ho delle cose grazie ai commenti che mi avete lasciato sotto il video del giveaway mi avevo chiesto di dirmi quali video vi sarebbe piaciuto vedere sul mio canale a parte i video tutorial che stanno per arrivare ve lo prometto arrivano semplicemente non avevo la postazione giusta perché non mi piace fare video tutorial in questa location ma avevo voglia di crearmi una specie di studio dove posso fare solo i video tutorial quindi stanno arrivando anche quelli inoltre mi avete chiesto tanti video in tante persone mi avete chiesto il video ask per potermi conoscere meglio in questo momento quindi io inizio l'hashtag asknanaqueen per potermi chiedere qualsiasi cosa e qualsiasi tipo di cosa che vi passa per la testa non so che volete chiedermi che volete sapere qualche curiosità che può essere riguardante la mia vita riguardante il make up riguardante qualsiasi tipo di cosa e fatemi le domande e lasciatemi tutte le vostre curiosità io raccoglierò tutte le domande vedrò quali sono quelle più generiche e risponderò cercherò di rispondere a tutte le domande l'hashtag nanaqueen uscirà tra un po' quindi avrete il tempo anche di lasciare commenti avrete il tempo di vedere questo video per poter inventare che cosa chiedermi e l'hashtag lo lancerò su youtube su instagram e su twitter quindi avete tre social network sui quali sbizzarrivi con le vostre domande passiamo invece alla terza cosa sì la terza ho deciso di lanciare un nuovo giveaway che però partirà più avanti però questa volta sarete voi a scegliere la marca avrete tre opzioni di marca che potete scegliere quella che volete e quella più votata sarà la marca che sarà la marca principale e vincerete i prodotti di quella marca le tre marche in questione sono Kiko Makeup Makeup Revolution e Essence sono tutte le tre marche che voi avete visto sul mio canale che potete conoscere facilmente perché sono abbastanza famose e quindi via ai voti lasciate la vostra domanda con Ask Nana Queen e in più se avete voglia di partecipare al prossimo giveaway lasciate pure anche la marca che vorreste poter darvi a casa i prodotti e niente con questo mi sa che abbiamo finito quindi passiamo subito al vincitore o vincitrice vedremo questo è il video del giveaway che al momento è chiuso vado su Sandra Cires metto il link e calcola i commenti ce ne sono 225 più anche delle risposte in tre pagine prendiamo il vincitore questa è la mia risposta quindi allora Miranda Shabani che mi scrive ciao bella sono un uomo sul canale partecipa volentieri al tuo giveaway ha lasciato due commenti ed è nella pagina 1 la numero 56 ora che l'inicitrice è stata estratta chiedo pretese mi interno mirando di contattarmi in uno dei miei social network che può essere Instagram Facebook o appunto qui su YouTube dicendomi il suo contatto dove posso trovarla e così ci organizziamo per i dettagli di spedizione tutto così li spedisco tutti i premi e con questo ho terminato il video spero vi sia piaciuto questo termine il video e grazie a tutti per la partecipazione ciao